Dopo tre mesi Real Giulianova torna al successo dinanzi al proprio pubblico, battuta la Savignanese 2-1, una vittoria che mancava dallo scorso 25 novembre 1-0 all'Isernia e in panchina sedeva Nico Stallone. Per il suo sostituto Dario Bolzan che ha preso in mano la squadra dalla vittoriosa trasferta di Avezzano si tratta del primo squillo al Fadini in campionato. Prova di carattere e di grande sacrificio per i giallorossi contro una Savignanese che non ha regalato assolutamente nulla, che ha messo in campo una cattiveria agonistica che a tratti è apparsa anche eccessiva. Giulianova rimaneggiato tra infortuni, l'ultimo quello di Balducci e la squalifica di Tozzi Borsoi. C'è però Di Paolo in attacco recuperato all'ultimo momento. Napolano, da regista dinanzi alla difesa, conferma di aver trovato il suo ruolo in mezzo al campo e sarà tra i protagonisti della sfida perché il gol decisivo porta la sua firma direttamente su calcio piazzato. Sontuosa anche la prestazione di Fuschi al centro della difesa. Gara spigolosa con gli ospiti che gridano al gol al terzo quando Longobardi infila alle spalle di Pagliarini aiutandosi però con una spinta ai danni di Federico Delgrosso. Rete ovviamente annullata. I padroni di casa sbloccano al ventesimo. L'azione che porterà al vantaggio del Giulianova per la verità inizia da un calcio d'angolo per la Savignanese. Torelli libera la propria area innescando il contropiede di Di Paolo che va via sulla fascia travolgendo anche il primo assistente. Riuscendo però a servire Fazzini che salta il portiere e infila in fondo al sacco prima dell'intervento di due difensori. Esplode il Fadini ma la Savignanese non è morta. Da tiro d'angolo Giacobbi interviene in modo goffo sul pallone che si stampa sul palo. Spavento tra il pubblico e i giocatori in campo quando Lennart si scontra con il suo portiere. Il centrocampista resta tramortito a terra privo di sensi. Immediati soccorsi in campo. Il giocatore si riprenderà poco dopo facendo tirare un sospiro di sollievo al pubblico presente sugli spalti. Al quarantunesimo i romagnoli trovano il pari. Noscese dalla destra riesce a mettere uno spiovente in area giallorossa che Francesco Manuzzi controlla prima di testa e poi probabilmente si porta il pallone avanti con il braccio destro prima di calciare a rete. Inutili le proteste dei giallorossi che però un attimo dopo trovano il nuovo vantaggio con la pennellata di Napolano che inganna Fazzini con una strana traiettoria. Sul finire di tempo Parapiglia all'altezza della panchina ospite Giulietto Torre vice di Bolzan nel tentativo di calmare le acque viene espulso dal pessimo Mialage fischietto della sezione di Terni. Nei secondi 45 minuti nonostante lo svantaggio la Savignanese non tirerà mai in porta anzi saranno i locali a sfiorare più volte la rete con Barlafante e con Staffelli. Tre punti d'oro per la classifica del Giulianova ed ora la sosta per mister Bolzan. L'occasione per poter recuperare tutti gli acciaccati prima della trasferta di Iesil prossimo 17 marzo. Mister è più soddisfatto dei tre punti o della prestazione dei suoi ragazzi? Entrambi, io volevo questo spirito qua da quando sono arrivato, questo carattere qua. Abbiamo un attimino arrancato per tanti motivi, per qualifiche, per infortuni, per tante situazioni, per cambio abbastanza radicale a oggi nel modo di giocare, nel modo di interpretare il calcio e quindi però alla basse di tutto questo quello che conta è come hai detto te lo spirito che hanno avuto i ragazzi oggi quindi le faccio un applauso, ho messo già complimentato con loro perché è la basse per raggiungere gli obiettivi. Io credo che questa squadra a livello di gioco, a livello di idea sia andata sempre in crescendo. Poi dopo una volta ho detto che bisogna analizzarle un attimino le sconfitte perché quella di Mattelica e quella di Incazaro-Cambolesca del 4-1 col Francavilla andrebbero analizzate per bene però ormai è andata, se guarda avanti non sarà facile, se qualcuno pensa a rilassarsi non ha capito niente non sarà facile raggiungere l'obiettivo però con questa determinazione qua, con questo appoggio del pubblico che giustamente viene contagiato dall'atteggiamento della squadra, secondo me ci si può provare a raggiungere l'obiettivo in modo importante, insomma anche prima se possibile. Grazie a questo atteggiamento qua abbiamo concesso poco a un avversario che anche loro venivano dei risultati veramente importanti quindi sono contento noi abbiamo avuto la possibilità di aumentare lo score però va bene così. Va detto anche che qualcuno si deve mettere una mano sulla coscienza perché il terreno di gioco di questo stadio qua è vergognoso, vergognoso io non riesco nemmeno ad allenarmi in questo campo qua perché ogni volta che andiamo in campo perdo qualche giocatore il campo è durissimo, se qualcuno non ci dà una mano a portare l'acqua per far sì che il campo venga annaffiato non riesco a capire come potremo giocare le partite in futuro qua in casa, non voglio neanche pensarci. Mister Giuliano ha giocato di carattere, grande determinazione, nel secondo tempo ci si aspettava forse qualcosina in più della Savignanese ma non avete mai tirato in porta? No era difficile, insomma era una squadra che si era chiusa molto bene quindi nel secondo tempo soprattutto era difficile giocare, la partita era solo agonistica e così si è svolta quindi o si trovava un episodio o se no dal punto di vista della costazione quando c'è una squadra che si difende con tutti gli uomini, corre ed è arcigno come Giulianova è difficile. Avevate trovato il pareggio contestato dal Giulianova per un presunto fallo di mani poi subito di nuovo il vantaggio dei padroni di casa, che cosa ha detto al suo portiere? Beh mi sembra che la punizione sia stata tirata molto bene, sia stata una punizione molto forte non vedo responsabilità dal mio portiere, è molto difficile da prendere quella palla. Manca poco per la salvezza? Manca poco ma sono da fare.